Jeremy Renner torna in una serie dopo l'incidente, Renervations. Jeremy Renner è pronto a tornare in piattaforma con una nuova serie Disney+. È la prima volta dopo l'incidente che lo ha costretto a una lunga riabilitazione. La serie è stata girata prima che l'attore è rimasto schiacciato dallo spalaneve. Sul vialetto della sua casa in montagna, nel Nevada. Un incidente gravissimo. Avvenuto lo scorso gennaio, che gli ha causato la frattura di più di 30 ossa. Questa serie TV mostra la grande passione dell'attore per il restauro dei veicoli e per la solidarietà all'interno delle comunità locali. Il debutto è previsto per il 12 aprile su Disney+. Rennervations è una serie nella quale l'attore, insieme a un gruppo di esperti costruttori, usa le sue abilità nel restauro di veicoli dismessi. Una completa ricostruzione al servizio delle comunità di tutto il mondo. Ho intrapreso questo percorso ormai da molti anni e ho iniziato nella mia comunità costruendo veicoli per le persone bisognose. Ma qualche anno fa ho pensato, come posso fare per aumentare il mio impegno a creare un impatto più grande su un'intera comunità. E questo è ciò che fa questo show. È una delle mie più grandi passioni, una forza trinante per la mia guarigione e non vedo l'ora che tutti possano guardarlo. Rennervations debutta il 12 aprile, in esclusiva mondiale, sulla piattaforma Disney+. La serie porterà Jeremy Renner in giro per il mondo, da Reno, sua città natale, fino a Chicago. Poi Cabo San Lucas, in Messico, fino a Raya Stan, in India. Jeremy Renner ha condiviso una nota scritta dal suo nipotino Ogie, Sono molto fortunato perché mio zio è Occhio di Falco, che è uno degli Avengers. Sono anche molto fortunato che mio zio sia vivo dopo il suo incidente. La stella della Marvel ha scritto, ti voglio bene, mi ometto. Ti voglio bene, Auggie. Dragonul, Maxi, Gespe, chimie, Rimaru, Spike, Puiasi, Schwabbo, grasul, nimeni altu, Delvede sau Carpo. Tre' să vă mănânc vers cu vers card intens, tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă bar cu boss-ul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, hiperbole, le obțim prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.